I concerti diventano un appuntamento social interamente virtuale. Ai tempi del Covid-19, qualche giorno prima di entrare nella fase 2, l'Istituto Comprensivo Italo Calvino di Allista, Fellino e Melissano ha voluto onorare il primo maggio con un concerto su YouTube. 56 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, diretti dal maestro di flauto Antonio Pepe, con la collaborazione degli altri docenti, ognuno da casa propria tramite una videoconferenza, hanno eseguito alcuni brani, tra cui l'inno di Mameli. La stessa idea ha avuto anche la parrocchia Sant'Antonio di Parabita, un concerto per iniziare il mese di maggio, che consacra la Chiesa alla Vergine Maria. In questo caso, 40 coristi, diretti dalla maestra Aurora Nicoletti, hanno cantato il brano Ave Maria di Thomas Lewis de Vittoria, una testimonianza video editata e montata, poi affidata alla pagina Facebook della parrocchia salentina. Cambiano le parrocchie, le scuole e persino il modo di ascoltare un concerto. Per ora funziona così. Grazie a tutti.